e partiamo con questa analisi di bitcoin che come vediamo in questi ultimi due giorni normalmente sempre sul fine settimana ha perso un po di spinta un po di grinta ma un qualcosa da dover analizzare è proprio dove si sta andando appoggiare come sta lavorando e bisogna prima di tutto andare a osservare in maniera molto molto ristretta il time frame quindi andiamo subito sull'orario e poi andare a vedere un po più in largo prima di tutto voglio portare la vostra attenzione su quest'area di prezzo che è stata testata diverse volte dalla settimana scorsa quindi all'incirca tra la mezzanotte dello 05 fino alla all'una anzi a mezzanotte dello 07 quindi praticamente stiamo parlando proprio della settimana scorsa fine settimana e sappiamo bene che su bitcoin o comunque sul mercato delle cripto lute c'è sempre una specie di di risentimento nel fine settimana ma in questa insomma in questa abbiamo visto proprio questo calo del prezzo questo è un cluster di prezzo da tenere molto in considerazione che potrebbe essere prima di tutto un cluster di prezzo che può reagire come resistenza o come supporto in questo caso come supporto almeno per quanto stiamo vedendo ad oggi è come supporto e andiamo inoltre a guardare il fatto che se dovessimo andare a fare la proiezione di fibonacci dal punto più basso fino al punto più alto di questo movimento di trend vedremmo che il cluster di prezzo si andrebbe a incagliare tra il 38 e 2 e il 50 di fibonacci quindi anche se dovesse calare fino al 50 addirittura fino al 61 e 8 comunque sarebbe una un movimento abbastanza logico e molto organico che porterebbe comunque un beneficio al mercato questo perché logicamente avremmo un mercato che come sempre ha pompato in maniera esponenziale nell'arco di qualche giorno ma in questo momento poi starebbe a si starebbe insomma riprendendo e starebbe riflettendo per capire poi cosa fare nell'immediato futuro l'altra cosa interessante vi dire che il 23 e 60 è proprio sulla linea dei 34 e dei 43 mila e 500 dollari e andare a vedere questi double questo double top che ci potrebbe stare in un cambio di trend logicamente sul breve in effetti stiamo parlando sull'uno e questo infatti ha fatto vedere un calo un'altra cosa che volevo mostrarvi è proprio un ebcd pattern che si sta andando a mostrare ossia in questa qua in questa maniera e b c d e poi una e io me l'aspetto fino a questo punto dopodiché dovrebbe esserci una ripresa del trend quindi all'incirca sul 50 di fibonacci in concomitanza con i 40 mila e 800 comunque 40 mila dollari dovrebbe esserci un movimento di trend che se dovesse esserci farebbe muovere il mercato o comunque bitcoin nel frattempo fino a poter arrivare addirittura a toccare circa i 68 mila i 48 mila o addirittura i 51 mila e se dovesse succedere una cosa del genere saremmo in propensi logicamente a una nuova non bull run ma comunque movimento in uptrend la bull run dal mio punto di vista per essere confermata deve andare a rompere il muro di 53 mila dollari e andare a confermare il muro di 60 in questo caso logicamente avremo un reale bull run ancora una volta e probabilmente anche l'ultima dell'anno andiamo sul quattro ore e possiamo vedere che comunque le tre ma che normalmente io utilizzo per andare a fare del trading in maniera sicura e molto slegata dal mio tempo ossia l'ema a 9 l'ema 21 e l'ema 50 in questo momento la 9 è andata in cross down sulla 21 ma la 50 momentaneamente sta facendo quasi da supporto andiamo invece sul giornaliero e vediamo subito addirittura che per quanto riguarda le tre ma abbiamo l'ema quella a 50 periodi che è ancora sopra sia alla 21 che alla 9 quindi in questo caso non possiamo ancora confermare un cambio di trend andandoci a basare sull'incrocio di queste tre ma ma possiamo comunque vedere che l'ema a 9 periodi è passata in maniera netta e anche abbastanza aggressiva con un'angolazione abbastanza importante sopra la 21 e quindi stiamo comunque va valutando e lavorando nella direzione di un nuovo cambio di trend per quanto riguarda il mercato in effetti come avevo detto già la settimana scorsa jp morgan aveva valutato il market price per quanto riguarda anzi lo street price per quanto riguarda il valore di bitcoin attorno ai 38 mila dollari abbiamo toccato addirittura i 33 i 32 mila 900 e passa quindi circa i 33 mila dollari e potrebbe essere ipoteticamente il muro che non dovrà essere rotto se vogliamo vedere ancora una volta una bitcoin forte mentre se dovesse essere rotto anche in questo caso il muro dei 33 mila dollari potremmo andarlo a ritrovare ai 30 ma questo insomma ad oggi non ci tocca e non ci preme vediamo comunque che il rsi continua ad essere molto forte rispetto alla trend line che abbiamo segnato ma bisogna anche andare a valutare lo stocastico che come possiamo vedere in questo momento sta incominciando a scendere sotto l'80 quindi la pressione di vendita sta incominciando a abbassarsi questo non significa che avremo un down molto importante potremmo tranquillamente anche solo vedere un rientro tra gli 80 e i 20 e poi un rimbalzo per continuare a spingere in uptrend il mercato delle criptura e quindi bitcoin in sé per sé tutto ciò logicamente dove deve essere anche valutato in base al momento macroeconomico e logicamente anche politico che sta vivendo sia l'america sia l'europa e sia in questo caso anche la russia che sappiamo che stanno in un momento molto particolare della storia dove si stanno diciamo beccando per l'ucraina noi speriamo logicamente che non succeda nulla non tanto per il mercato quanto proprio per la guerra ma in diciamo che speriamo anche che non succeda nulla proprio per il mercato stesso anche perché se dovesse succedere un conflitto fra le due potenze purtroppo ne andrebbe di mezzo sicuramente il mercato e quindi anche logicamente bitcoin anche se credo nel caso in cui dovesse succedere una cosa del genere il calo del prezzo di bitcoin sia la cosa meno importante tra tutte queste come al solito vi ringrazio per aver visto il video ci risentiamo domani con le crypto news che andranno a recappare tutta la settimana vi ringrazio per aver visto il video e come al solito vi richiedo di mettere un like commentare qui sotto iscrivervi al canale attivare la campanella prima nelle sempre giornate su tutti i video che vado a caricare andare a visitare il mio account instagram e tiktok davidevasco85 e se volete contattarmi su telegram davide lineetta bassa vasco vi ringrazio per aver visto il video e al prossimo video ciao a tutti ragazzi